bene amici, è lo ZTE Blade A452 che sta girando questo demo video spero che voi mi sentiate, qua siamo in super contro sole allora, vi spiego perché sono qua ho iniziato a sentire dallo studio una musica fantastica io lo studio ce l'ho lì in Corso Como intanto vi faccio vedere la stabilizzazione del video e ammetto l'ignoranza, non so chi sia ma qua si è riunito un capannello di persone e c'è qualcuno che sta suonando potrei usare Shazam, potrei usare mille applicazioni per sapere chi è ma, boh, non so, a me la musica piace molto e ammetto anche un po' la mia ignoranza in campo musicale purtroppo ve lo lascio sentire un attimo c'è da dire che sono anche molto basso quindi non so se sono riuscito a farvi vedere chi c'era dietro la folla che dite, ci sentiamo a qualche altro istante nel frattempo mi sono spostato un attimo per fare lo zoom, ecco qua sul cartellone, non è pubblicità occulta Samsung non mi paga, ve lo assicuro zoom comunque 4x facciamo la ripresa dove c'è anche un po' meno luce ci mettiamo qua dentro ai caselli con un vetroambulante che sta vendendo le sue borse ma è fantastica questa colonna sonora ragazzi ma è veramente bravo a cantare questo ragazzo poi scopro che è un cantante famosissimo io ho la possibilità di sentirlo e ignorantemente vabbè mi bercherò dell'ignoranza a tutti voi perché non so chi è ma la musica mi piace tanto sto zitto mi lascio altri 30 secondi in musica la musica mi piace tanto non mi as skills ci mettere 중 ma ce qua o la musica mi Grazie. 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 Grazie a tutti. Ma vedrai in qualche parte di film. I'll see you there shortly. I hope you enjoy the show. And thank you so much for coming down today. It's amazing to be in Milan. It's really good to be here. Lots of love. Thank you. Ok, ce l'hanno portato via Non so chi sia Ma la musica era fantastica No, chi era? Non lo so anche tu Tom, abbiamo scoperto che si chiama Tom Ma Tom, bisogna andare dai ragazzi Odell Siamo troppo vecchi Tom Odell Perfetto Abbiamo scoperto Tom Odell Ammetto la mia ignoranza in campo musicale Però ha cantato dal vivo In maniera veramente top Spero che i microfoni di questo ZT Abbiano colto le tonalità